che schifo buongiorno io sono in queste condizioni e oggi c'è il carnevale ho i miei genitori a pranzo per festeggiare il mio compleanno che è stato due settimane fa e io sono a queste condizioni col moccolo al naso e sotto antibiotico e con questa faccia qua aiuto e cosa c'è cosa vuoi con quella manina sto preparando la polentina guardate i capelli adesso ho utilizzato lo shampoo secco che vi ho mostrato in uno degli ultimi video sembrano quasi decenti e profumano tantissimo e li sento anche con raffreddore tanti auguri a me tanti auguri vecchiarda guarda fermo lì che facciamo il video che spettacolo questo pirata guarda fermo lì che cosa vuoi Sì, è finito, è finito. Sì, è finito, è finito, è finito. Sì, è finito, è finito, è finito. Sì, è finito, è finito. Sì, è finito. Sì. Sì, è finito. Sì. 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 Sì.